Immagini girate nei quartieri fanesi, momenti di divertimento condivisi in spiaggia, ma anche attimi indimenticabili vissuti sul campo dello Stadio Mancini. Papa Giovanni Paolo II in visita a Fano, il Carnevale, il Porto e personaggi noti e meno noti di una città cambiata nel tempo. Un video che rientra nel progetto ideato e realizzato dallo studio del Bianco in collaborazione con Fano TV. E questa sera andrà in onda la terza e ultima puntata della stagione di Viaggio nella nostra memoria. Quella che vedremo sarà una puntata molto interessante per i fanesi in generale e per gli abitanti di San Lazzaro in particolare, perché vedremo delle immagini molto antiche risalenti alla fine degli anni Sessanta riguardanti questo quartiere, quindi vedremo ancora una San Lazzaro in via di sviluppo e in fase di costruzione. In più vedremo interessanti immagini riguardanti la stagione calcistica 1981 in cui Fano Calcio ha sfiorato per pochissimi punti la Serie B, quindi vedremo anche queste immagini riguardanti il Fano Calcio molto interessanti per gli sportivi fanesi. Questa sarà l'ultima puntata per quest'anno di Viaggio nella nostra memoria. Speriamo, grazie all'aiuto dei telespettatori, di riuscire ad avere nuovo materiale girato in Super 8 per poter riuscire a ricostruire anche per il prossimo anno una nuova serie come quella che abbiamo visto in questa stagione.